E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi voglio parlare di questa cosa, cioè che è arrivato quel momento dell'anno dove la scuola ha pressa tantissimo. Mi pare che non vi ho mai parlato della scuola sul canale, mi pare che ve l'ho accennato, non mi ricordo. Comunque non ricordo di aver fatto un video sulla scuola, per chi non lo sa io faccio il primo superiore al grafico pubblicitario di Cannosa di Puglia, cioè la mia città. E niente ragazzi, è arrivato quel momento dove si inizia a non capire più niente, a fare le interrogazioni, i compiti vari, infatti sono già iniziati, o meglio qualcosa ho già fatto. E niente, media scolastica superiore al 6, la sufficienza su circa tutte le materie, tranne 1-2, però, preoccupabile. Vediamo un po' cosa possiamo fare anche lì, ovviamente il mio progetto dell'estate è sempre quello, cioè che puntare tutto sul canale per le varie esperienze che farò in quest'estate. Anche prima forse un grandissimo evento il 21 maggio a Misano ragazzi, al circuito di Marco Simoncelli. Non lo so, forse un grande evento, forse. Ovviamente se ci sarà video assicurato, e niente. Quindi il progetto è sempre quello, spero di fare perché se nel caso dovrei prendere qualche recupero, perché ovviamente negli superiori ci sono anche i recuperi estivi, si complica il tutto. Perché c'è il problema che finiscono a luglio, quindi c'è meno tempo per il canale, eccetera. Quindi è un po' questo momento, un po' così. Quindi ragazzi, quello che vi voglio dire con questo piccolo video, cioè in quest'ultimo mese, scusatemi se magari non pubblicherò molti video. Io comunque nei momenti di stop, la sera, oppure la domenica, eccetera. Specialmente queste ultime due domeniche che ci sono le partite di basket, del Canus in Basket. Ovviamente andrò a vederle, quindi devono uscire quattro video, uno speciale bellissimo, che vediamo ora quando ve lo riesco a mettere. Quindi come stavo dicendo, con questo piccolo video vi voglio dire, scusatemi se in quest'ultimo mese, fino all'ultimo di maggio, se non pubblicherò molti video alla settimana, è perché proprio come questo fatto qui dalla scuola. Ovviamente poi, come vi ho detto, cercherò comunque di mantenere sempre il solito tempo, quindi due o tre giorni per ogni video, perché sennò le visualizzazioni calano. E infatti ho messo lo scorso video, ora stanno ricominciando a calare. Oramai non durano più di tre giorni i video, ma vabbè. E niente, quindi vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando iscrivetevi, campanellino, arriviamo a 300 iscritti. E alla prossima, ciao!